Salve e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al microfono sulle cuffiette, microfono sull'auricolare, quindi in questo caso se hai inserito le tue cuffie al pc, si sente l'audio però non esce nessun microfono, quindi il microfono non risponde al pc, in questo caso può essere che non è inserito come dispositivo predefinito sul pc oppure che non l'hai selezionato come microfono sul computer, tasto destro sopra sull'icona dell'audio, impostazioni audio, andiamo fino a giù fino a trovare gli input, qui ci sono tutti gli input del microfono, io uso questo qua per parlare, ti sto parlando nella registrazione, sto usando questo qua, linea d'ingresso, questo qua per le auricolari e inserisci questo qua, oppure altre impostazioni audio, registrazione, qui ci sono tutti i microfoni, come puoi vedere sto parlando, si sente anche la tacchetta che si alza e scende, questa è la linea d'ingresso delle cuffiette, tasto destro sopra, se c'è scritto dispositivo disabilitato, vuol dire che qui c'è scritto abilita, abilita il tuo dispositivo, fai abilita il dispositivo, clicchi sopra, ascolto, livelli, linea d'ingresso, se sta su 0, tu stai parlando però il microfono sta a 0 quindi devi metterlo a 100, avanzate, canali, ripristina predefinite, abilita miglioramenti audio e fai applica, prendendo 92.000 Hz qualità professionale e fai ok, se non dovesse funzionare anche con questo metodo, chiudiamo un attimo qua e andiamo sui gestioni dispositivi, quindi tasto destro sul logo di Windows, qua sopra, vai su gestione dispositivi, input e output audio, qui ci sono tutti i microfoni dispositivi audio, come puoi vedere questo è il mio microfono, se non dovesse funzionare tasto destro sopra, disinstalla il dispositivo e avvia il tuo sistema, scollega il cavo delle cuffiette dal pc, collega di nuovo il cavo e poi accendi il pc. tasto destro sopra, se non dovesse funzionare, aggiorna il driver, cerca il driver nel computer e aggiorni così il driver, se devi aggiornare così dispositivi sul tuo pc, puoi andare direttamente su verifica disponibilità aggiornamenti e vedi se devi fare qualche aggiornamento sul tuo sistema. se non dovesse funzionare andiamo direttamente su risoluzione, risoluzione problemi, così ti fa capire qual è il tuo problema, altri strumenti di risoluzione dei problemi, più frequenti audio, diciamo qui, risoluzione dei problemi audio, abbiamo il tuo consenso di eseguire così una diagnostica, facciamo sì, ovviamente si è sentito un beep, quindi ci diranno se si è sentito il beep, vuol dire che il dispositivo funziona perfettamente, hai sentito il suono beep, facciamo sì, non sono riuscito a trovare il problema, posso seguire nuovamente la scansione per cercare di trovare il problema, ovviamente non c'è nessun problema nel mio dispositivo audio, quindi andiamo su privacy e sicurezza, scendiamo fino a trovare il microfono, eccolo qua, accesso al microfono, se state usando il vostro dispositivo, il vostro auricolare su un'applicazione, però qui è disattivata, dovete attivare, tipo registrazione di suoni e volete fare una registrazione con il vostro microfono sull'auricolare, però è disattivata, quindi non potete usarlo sul registratore, e metti attivato, oppure scendo fino a giù, fino a trovare, consente alle app desktop di accedere al microfono, da disattivato, metti attivato. Come ultimo passaggio andiamo direttamente sulla console Realtek Audio, in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare così il pannello MSI Realtek Audio, io ovviamente uso questo per la mia scheda madre, se non sai che scheda madre hai nel PC, puoi andare direttamente su System Information, e qui troverai la tua scheda madre, prodotto scheda di base B450 Gaming Plus Max. Linea in ingresso, inserisci il cavo jack delle tue cuffie e qui puoi personalizzare il cavo jack nel buco che hai inserito, quindi se l'hai inserito in un buco rosso o nero, clicchi sopra sul rosso e selezioni così la linea in entrata, per esempio su questo buco nero, cuffie, entrata microfono, e quindi a posto di usare l'audio uso il microfono, e poi così personalizzare e modificare anche il volume del microfono e dell'audio. Ci sono altri tutorial su come risolvere i problemi all'audio nel microfono in alto a destra nelle schede, ti consiglio di guardare quelle guide su come risolvere altri problemi di audio, nelle schede troverai una delle guide per risolvere il problema all'audio. Se hai altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!